ciao ragazze ciao a tutte e ciao a tutti allora nuovo video innanzitutto make up perché questo è un video di trucco ma anche outfit allora come tutto faccio il make up il make up è questo qui che vedete tra i miei occhiali attraverso i miei occhiali e nulla dunque come palette ho ingessato questo come palette questa è della opulenza di zoe la vedete questa qui sono che erano in attrazione ma devo entrare un po di caldo dalla sala e quindi non c'è tanto caldo qui in camera e quindi piccola precisazione c'è freddo in camera mia e faccio entrare un po di caldo scusate dalla sala niente allora cominciamo subito questa è la palette di zoeva e questa è imperial imperial poi c'è come potete vedere questo colore qui che io vabbè leggettelo voi tutti alcuni di questi l'ho applicati su tutto l'occhio come transizione alcuni e questo qua questo blu che deve questo qua blu mare lo chiamo così perché non so come chiamarlo comunque blu mare o lunotte e l'ho inserito qui sulla rima inferiore dell'occhio poi un po di maschera che non so dove attendete un attimo il maschera ho preso questo come maschera della rimel rimel mascara questo qui in palibre 327 cashmere l'oreal controllo si sta registrando scusate si sta registrando ok poi cipria per fissare il tutto della rimel 004 no 006 scusate mi sto sbagliata ecco qua questo si questo non so cosa si possa vedere allora cipria se sta bene e mi ci trovo bene anche se io ci tengo a dire che la pelle secchissima però vabbè dettagli ragazzi vedete faccio mi piace poi bronzer e blush infine come bronzer ho utilizzato questo qui sono scimmert la rimel vedete eccolo qua rimel e poi come altro prodotto infine blush si non sapeva sempre le bronzer come prima cosa e blush mai perché sono infatti micchiati infatti mi cozza non so dire mi macchia troppo quindi prima uso il bronzer poi il blush che è 003 wildcard questo qui card questo qui vedete e non so cosa si può vedere aspetta un secondo eccolo qui vedete no perché non metto a fuoco se si è solitato ecco qua e poi come altro prodotto l'illuminante della make up revolution se riesco ad aprirlo eccolo qua questo qua ed è stra bellissimo che ve lo dico a fare ed è questo ecco qua vedete ragazze questo è l'illuminante e questo è un disastro sto video però sperando che vi piaccia lo stesso e molla con il rossetto che ovviamente l'ho tolto ma è questo eccolo qua welcome e questo è il rossetto che non serve si vedrà qualcosa si ok niente la mattita questa che per fissare il rossetto della non so se sia fuba caspita sia boh max factor non ne ho idea comunque un po' lungo la mattita e un po' l'ho fatto il make up come coda come pettinatura nulla di che è sempre la solita tutte tirate all'insù per fare effetto lifting al viso ragazzi mie e poi come attendete un attimo che vi faccio vedere il mio outfit allora come outfit vedete bene che aspettate un secondo perché come outfit sto indossando questo da stamattina con i miei stivali che sono di là però non sono i miei stivali no anzi questo è il mio outfit come potete vedere non so come una macchia non ne ho idea comunque questo è il mio la mia maglia vedete la mia maglia col collo questo è il trucco ma è bello che è andato quindi ciao proprio e niente ciao ragazzi ci vediamo dopo un altro video ciao 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 a tutti i miei stivali no anzi questo è il mio outfit a presto un bacio ah ricordatevi di mettere like e supporto se vi è piaciuto questo video e soprattutto se vi piace questo video iscrivetevi al canale soprattutto e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento sul mio canale youtube bacio ciao a presto a presto